Beh, sicuramente è una testimonianza di affetto grandissima, un affetto ricambiato da parte mia che amo molto questa città, che mi ha colto e coccolato, quindi sono super felice che il sindaco abbia deciso di darmi questa chiave della città. Te l'aspettava? No. No, quindi la sorpresa mi ha ulteriormente resa felice. Sulla terza stagione hai qualche anticipazione? Eh, no, non posso. Qua c'è il produttore che mi dà delle cosce. Ma quando la vedremo in tv? Marzo, settembre? Marzo. Marzo. Quindi inizio anno prossimo. E ci si parla di questa stagione e già mettiamo ancora la terza. Adesso facciamo la terza e poi si vedrà. Il rapporto Napoli-Bari ormai è in vista l'uomo? Grazie. Sindaco.